Sta salendo alle stelle di giorno in giorno la tensione intorno alla vicenda di Banca Etruria dopo il decreto salva banche sono purtroppo tantissime le famiglie che hanno perso tutti i loro risparmi o quasi. In provincia di Perugia c'è stato anche un allarme bomba per la presenza di un pacco bomba nella filiale di Banca Etruria nella zona di Ponte San Giovanni. Secondo quanto si apprende il pacco contenente chiodi e fili collegati sarebbe stato notato da un cliente della filiale. Immediato l'allarme sul posto i carabinieri che hanno innanzitutto pensato all'evacuazione del personale dei clienti e poi grazie all'aiuto degli artificieri hanno fatto brillare la bomba. Intanto ad Arezzo è sfumato l'incontro tra il presidente di Nuova Banca Etruria Roberto Nicastro e il comitato vittime salva banche che si è comunque ritrovato di fronte alla sede storica di Banca Etruria. La protesta ancora prosegue. Innanzitutto il 12 gennaio siamo a Roma davanti la Consob per protestare contro la mancata vigilanza. Molta fiducia la riponiamo nell'incontro di domani. Andremo nella sede principale di Banca Marche a Roma. Ci sarà la dottoressa Pierdicchi che è la consigliera delle quattro banche. Forse è annunciata la presenza anche di Nicastro. Andiamo a sentire però noi rimaniamo fermi in ciò che chiediamo. Una soluzione che venga incontro a tutti gli investitori di queste banche. La cosa è stata gravissima. Come dico sempre mi dispiace che Arezzo abbia reagito poco. Ci sia poca unione e poca voglia di unire la gente. E poca voglia di unirla anche per protestare. Perché io penso anche che a livello politico e a livello istituzionale qua ad Arezzo fino ad oggi è stato fatto poco. Il silenzio del sindaco non è che mi preoccupa. Mi fa rimanere proprio allevito. Perché tra l'altro è un cittadino che abbiamo votato noi. Il nostro primo cittadino. Parliamo male della nostra e della sua città. E quindi dovrebbe essere il primo a difenderla. E appunto come ha fatto il sindaco di Chiusi della Verna. Dovrebbe essere uno tra quelli che insomma il primo tra quelli che porta avanti una protesta. Perché qua non si parla di destra o di sinistra. Qua si parla... È un fatto proprio evidente che ci sono delle responsabilità di Banca Etruria. Grazie. 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 Grazie.